eccoci di nuovo insieme a ricordare la bontà di dio nei nostri confronti leggiamo la parola del signore nell'evangelo di luca al capitolo 2 dal verso 8 al verso 15 in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia a loro gregge e un angelo del signore si presentò a loro e la gloria del signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore l'angelo disse loro non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella città di davide è nato per voi un salvatore che è cristo il signore e questo vi servirà di segno troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a dio e diceva gloria a dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro andiamo fino a betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il signore ci ha fatto sapere gli angeli guardarono alla venuta di gesù con trionfo si adempiva ciò che giovanni riporta nel suo evangelo al capitolo 1 e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo tra noi piena di grazia e di verità con la nascita di gesù la grazia di dio ha trionfato l'uomo ha il soccorso di cui aveva bisogno è nato sulla terra il salvatore del mondo il cielo intero partecipa a questo grande evento come guardiamo noi alla nascita di gesù nel capitolo che abbiamo considerato viene precedentemente riportato di un uomo che guardò alla nascita del salvatore con tanta indifferenza nasce gesù ma non c'è posto per lui nell'albergo cosa conosceva l'albergatore della nascita del messia poco niente ed è rimasto indifferente mentre i magi d'oriente leggiamo nella parola del signore permisero al loro intelletto di essere guidato da dio arrivarono in giudea e chiesero dove è il re dei giudei che è nato perché noi abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo essi si rallegrarono di grandissima gioia trovarono il bambino e la adorarono non siamo indifferenti ma studiamo le scritture e permettiamo allo spirito santo di fare l'opera sua in noi allora realizzeremo ciò che giovanni riporta nel libro dell'apocalisse ecco io sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me nel testo troviamo degli uomini molto semplici i pastori mentre il coro celeste cantava le classi religiose dormivano gli aristocratici colti i capi del popolo erano completamente assenti furono per questo scavalcati il messaggio venne annunziato a questi pastori coloro che lo avrebbero ricevuto con gioia e creduto pienamente essi erano svegli fisicamente ma soprattutto spiritualmente erano pronti erano recettivi erano degli uomini devoti semplici come dei piccoli fanciulli nella loro fede e l'ottica divina si racchiude molto bene nelle parole che gesù rivolge al padre suo in preghiera io direndo l'odio padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli nella loro semplicità i pastori dissero passiamo fino a betlemme vediamo questo che è avvenuto e che il signore ci ha fatto sapere e andarono in fretta riceviamo anche noi con semplicità la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà perché dio vuol farci del bene ci fu un uomo che fu turbato dalla nascita di gesù davanti ai magi che si recarono da lui fu allarmato fu disturbato fu infastidito si preoccupava solo del suo potere la sua posizione prese delle misure per salvaguardarsi per difendersi molti vengono a conoscenza del salvatore ma volutamente consapevolmente volgono le spalle a cristo perché temono di essere privati di qualcosa dei loro agi delle loro comodità temono l'interferenza di gesù nella loro condotta ci sono cose nella loro vita che essi sanno bene sono sbagliate le loro coscienze li fanno sentire colpevoli gesù disse il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie mentre erode fu turbato leggiamo nel nostro capitolo al verso 25 un uomo di nome simeone fu consolato e gli pronunciò queste parole ora mio signore tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza egli riconobbe in quel bambino quando gesù fu portato nel tempio il salvatore del mondo guardò alla nascita di gesù secondo la parola del signore lo spirito santo gli aveva predetto che prima di morire avrebbe veduto il cristo allora lui prende il fanciullo tra le braccia ricorda le parole che il profeta aveva scritto ben settecento anni prima poiché un fanciullo ci è nato un figliuolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile dio potente padre eterno principe della pace possiamo anche noi come simeone accogliere gesù nella nostra vita è venuto in casa sua dice giovanni e suoi non l'hanno ricevuto ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da dio accogliamo gesù allora anche il nostro cuore sarà pieno di gioia grazie a tutti 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 Grazie.